Quella donata all'umanità dal cattolicesimo e la difesa delle libertà concrete che dalla lunga tradizione cattolica derivò in ogni plaga di Europa, contro un nuovo totalitarismo che dopo la rivoluzione francese si svegliava sempre più pressivo in ogni tentativo rivoluzionario, con un'intensità crescente fino all'apice toccato nel secolo scorso. Alfonso I combatté questa buona battaglia con le armi per 23 anni, dal 1853 al 1876. Continuò a combattere come re l'esilio delle due Sicilii, capo della casa di Burgone, fino alla sua morte nel 1934. Contiamo quindi più di 70 anni di preziosa testimonianza cavalleresca cattolica. Io come ultimo arrivato all'Opile Costantiniano ritengo che questa testimonianza cattolica di rigore e di rigore e di intransigenza, nel senso pieno del termine, sia veramente eccezionale. Egli fece fino al sangue e alle ossa proprio il famoso dettato del Vangelo di Matteo 5,37. Sia il vostro parlare, sì sì no no, e di più viene dal valiglio. Giunta la sua corsa, per riprendere un'altra pericola evangelica, conservata la fede, ha avuto dal più grande dei signori la colonna della vittoria. Ecco perché soprattutto oggi la sua testimonianza è quanto mai preziosa, perché è assolutamente acqua. Perché noi stiamo vivendo oggi negli ultimi tornati finali di quel processo rivoluzionario che era iniziato quando Alfonso Pino Rosone lo accompagnò per tutta la sua vita. Lui combatteva ogni suo respiro di base della vita e ha lasciato tutti noi in carico di continuare a fare il possibile per continuare la medesima buona mattata. Io spero che a questa figura qualcuno dedichi, con una ovviamente profondità e a come molto maggiore di questa scorbata che sono riuscito a fare io, un voluto. Bisognerebbe persino dedicare un film a quest'uomo, perché è una di quelle testimonianze viventi di cosa vuol dire combattere per la tradizione. Un combattimento che può essere in armis et sine armis, come le nostre formule di investitura si tramandano, ma è sempre il bellissimo combattimento. Grazie.